buongiorno a tutti quanti oggi siamo qua con nostro caro marco buongiorno a tutti ecco allora per portare anche un po di contenuto serio nel gruppo e su youtube perché ogni tanto ci vogliono anche contenuti seri la Vestalia giustamente la Vestalia simbolo ormai della serietà con cui faccio le mie recensioni ci tenevo visto che abbiamo la possibilità di essere qua in sede da goodfellas da rasoi goodfellas fargli alcune domande ok la prima è un po per capire come funziona le cose perché sicamente anche io non ce l'ho ancora capito tanto bene quindi se ci spieghi la differenza tra barbieri uniti goodfellas mai e rasoi goodfellas qual è la differenza tra le tre cose ok così facciamo un po di chiarezza esatto così una volta per tutte capiamo perché ci sono queste tre realtà esatto allora ciao a tutti innanzitutto la Vestalia fa schifo ve lo dico fuori dai denti eppure piace allora barbieri uniti è la società ok quindi barbieri e chi è barbieri uniti barbieri uniti è un importatore ok ed è un distributore cosa significa importatore distributore significa che il nostro mestiere è quello di avere dei brand in distribuzione in esclusiva che possono essere contratti sul territorio nazionale contratti per alcuni stati in europa contratti per tutta europa contratti per tutto il pianeta e di brand ok che sono stati selezionati nel tempo e che a volte poi fanno nascere altri nuovi brand e quant'altro quindi il nostro mestiere principale quello di prendere questi brand in accordo col produttore e distribuirli su tutto il territorio nazionale o europeo distribuirli significa che vengono venduti a tutti i vari negozi online negozi fisici negozi di settore e coltellerie che potete trovare in tutta europa sostanzialmente ed è nato per primo e l'avete fatto nascere voi o beh allora qui c'è una storia un po contorta nel senso che in realtà e prima si chiamava the good fella smile la società quando è partito mio fratello perché la società c'è tutta questa storia è nata quasi 12 anni fa da un'idea di mio fratello che adesso non è qui poi dopo magari poi fate il filmato che vi saluta eccetera eccetera in buona sostanza è nata per caso ok però l'idea è stata abbastanza lungimirante ve la zippo proprio piccola 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 perché una storia simpatica sostanzialmente lui è un e quindi la moglie gli comprava al supermercato la spiuma da barba le lamette eccetera eccetera le classiche usa e getta che tutti conosciamo senza fare nomi specifici che non è importante sta di fatto che dovevamo andare a cena una sera insieme lui doveva farsi la barba e sua moglie si era dimenticata di comprare gli sti cazzo di rasoi allora lui è andato molto stranamente da solo a prenderseli quando ha comprato il pacchettino visto che costavano un capitale gli sono girati talmente tanti maroni che il giorno dopo si è messo la ricerca di chi poteva produrgli un rasoio di una volta ok bene nel suo perché devi sapere che comunque sia nostra storia nessuno persone per chi non ci conosce magari siamo persone chissà che cosa in realtà ne sono le persone molto semplici molto facili nasciamo in una casa di operai 15 hai capito per noi il mille lire di una volta era importante come importante l'euro di adesso cioè proprio non è cambiato niente quindi spendere quando non si ha un soldo in tasca 15 euro per cinque pacchettini la mette a mira ha fatto girare no ciao stiamo facendo un saluto un attimo viene salutare ormai si è cascato dentro stiamo parlando male di te e vabbè ci siamo abituati avete iniziato a bere ma non a mangiare no adesso stiamo facendo due domande dopo iniziamo a tagliarci un po' di salone ah scusa ok no nessun problema ascolto da dietro no puoi anche ascoltare dal davanti quindi niente sono girati talmente i maroni che alla fine si è messo la ricerca di dove poter trovare e far fabbricare un rasoio di una volta e quant'altro e c'è riuscito tra le altre cose quindi c'è riuscito dall'altro capo del mondo infatti sul mercato è nato il primo rasoio chavette a marchio The Goodfellas Mile che si chiamava vendetta proprio per rievocare il fatto che vi girava le balle di quanto costavano le cose e abbiamo iniziato a vendere le cose su Amazon uno dei primi che è stato a vendere su Amazon e poi da lì è partito tutto il nome poi abbiamo incontrato tante persone nel nostro nel suo percorso perché sono arrivato dopo al che a un certo punto è nata barbieri uniti ok barbieri uniti e The Goodfellas Mile è rimasto come un brand ok quindi The Goodfellas Mile è rimasto come brand che c'è tuttora ok quindi The Goodfellas Mile è un brand di prodotti da rasatura in questo periodo non solo e in questo periodo non solo che ha una sua identità come se fosse un marchio di fabbrica un marchio di fabbrica un nome di una cosa che non c'entra niente nel settore ok quindi è nata barbieri uniti e sono arrivate le prime fortune perché al tempo non esisteva niente eh sì infatti ok esisteva solo giustamente ProRaso esisteva Taylor sul mercato e poi poco niente ok culo vuole perché questo si chiama culo che il vecchio distributore di Taylor in Italia che non faccio nomi chi ha chi hanno memoria più di 12 anni fa si può ricordare chi fosse e non sono più andati d'accordo e culo sempre vuole che Taylor ci ha contattati ok quindi quella è stata la nostra prima fortuna comunque il brand Taylor che piace che non piace che è è un brand uno dei miei saponi preferiti esatto è un brand che è conosciuto in tutto il mondo è venduto in tutto il mondo è apprezzato in tutto il mondo o bistrattato in tutto il mondo diciamo che se ne parla in tutto il mondo se ne parla in tutto il mondo esatto e poi magari ci torniamo su questa cosa ma non tra male proprio molto facile farmi ridere e quindi è iniziata la storia di barbieri uniti pian pianino quindi barbieri uniti ha iniziato a vendere agli altri questo brand ed è nato contestualmente perché The Goodfellas Mile non è stato molto difficile però ormai c'è non si poteva più cambiare e quindi è nata questa ala di barbieri uniti che si chiama rasoi Goodfellas che non è c'entra niente con il brand The Goodfellas Mile nonostante Goodfellas nel mezzo che è invece il sito dedicato ai privati che è partito piccolo e adesso è abbastanza grande questa è la differenza quindi sul mercato sono due cose completamente diverse cosa gestisci tu e cosa gestisci tuo fratello? perfetto perché stavo andando avanti ma questa era la domanda perfetto allora quindi punto andiamo avanti quindi questa cosa è diventata abbastanza grande sono poi arrivato io a dare un po' di sostegno e ci siamo spartiti il lavoro quindi adesso sicuramente non so se tutti lo sanno però il commercio tra aziende oggigiorno si differenzia in B2B e B2C quindi B2B è business to business quindi l'azienda che fa business con l'altra azienda e il B2C che è business to consumer quindi il business che un'azienda fa sul cliente finale ok quindi barbieri uniti oggi fa B2B e rasoi Goodfellas fa B2C io mi occupo del B2B e mio fratello si occupa del B2C e tra l'altro è una posizione ancora di barbieri uniti è una posizione molto particolare perché in buona sostanza rasoi Goodfellas è concorrente di tutti i clienti di barbieri uniti si vendete stessi negozi che dopo gli altri negozi vendono a loro volte quindi vendete a loro ma siete anche un po' concorrenti esatto e qui sta probabilmente la nostra bravura nel senso che è un equilibrio da mantenere è un equilibrio che non sempre i brand all'inizio capiscono poi quando vedono che il lavoro viene fatto in un certo modo viene livellato a livello di prezzi su tutto il territorio eccetera eccetera funziona però questo è quanto sostanzialmente esatto una domanda semplice e breve quanti dipendenti avete? 12 siamo in 12 totale tra barbieri? totale tra tutti siamo 12 persone ok perfetto come è nata? vabbè un po' l'hai detto però allora cambiamo questa domanda qua che sarebbe stata come è nata l'idea di investire nella rasatura tradizionale? un po' ce l'hai spiegato all'inizio quando è che vi siete resi conto? o quando è iniziato l'exploit della rasatura tradizionale? no che tra l'altro un giorno mio fratello era in macchina con me e mi dice sai sto facendo questa cosa nella rasatura perché ho fatto una mia indagine no perché mio fratello è sempre stato diciamo che mio fratello è il fantasista e io sono il metodologista ok quindi siamo proprio due e questo si nota molto esatto siamo due e mi dice no perché sai sto facendo questa cosa e il mio obiettivo finale è che alla fine io sarò diventato talmente grande che tutti dovranno comprare da me no? e io dico che cazzo dici? cioè come è possibile sta cosa di qui di là di su di giù? e anche perché tra virgolette penso che 12 anni fa era veramente una nicchia esatto che pensavo? e invece invece è andata e invece è andata e invece è andata quindi anche lì un po' un po' forse visionario ma però alla fine ha funzionato alla fine sta funzionando si sta funzionando sta funzionando abbastanza bene ok e quindi vabbè secondo voi allora qual è il segreto del vostro successo? c'è un qualcosa che si può dire? il culo il culo ok e quello quello ci va sempre aiuta sempre però a parte lo scherzo direi beh allora nonostante chi ci conosce siamo molto pane pane al vino e sicuramente la serietà la serietà con cui gestiamo il business soprattutto sulla distribuzione che comunque sembra banale ma non lo è sono tanti equilibri e piccole cose da tenere sono tanti equilibri poi ecco diciamo che comunque sia gli investimenti anche sono abbastanza importanti comunque importare a gestire un brand non è che sono patatine comunque sia dall'altra parte si aspettano che tu faccia un certo tipo di lavoro ok quindi diciamo secondo me la serietà la serietà commerciale ok siamo quasi in fondo e non manca tanto allora qual è la parte che vi affascina di più di noi appassionati e quella che vi piace un po' meno in sincerità così appassionato da social o appassionato del settore perché sono due appassionati diversi no no appassionato di rasatura tradizionale mettiamo da social sì da social anche perché gli appassionati sono tanti gli appassionati da social sono meno ok gli appassionati da social sono più fanatici diciamo ok allora 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 dici dici la differenza tra appassionato da social e appassionato che non è nei social beh l'appassionato perché noi non li conosciamo quindi non da social allora l'appassionato non social in realtà è la clientela a cui noi puntiamo per lo sviluppo ok nel senso che è la clientela che ama farsi la barba come una volta ed è una clientela che non mai si immaginerebbe di spendere centinaia di euro per un rasoio centinaia di euro centinaia no però decine di euro per un sapone quant'altro quindi è l'appassionato che mantiene la sua passione ok senza tanti fronzoli ed è quella parte di mercato che è quella che fa stare in piedi le aziende perché se tu ti basassi solo sull'appassionato da social chiuderesti dopo domani proprio detto papale papale perché è un numero molto ristretto di persone nonostante e qui arriviamo all'appassionato da social l'appassionato da social è comunque il primo commercio veloce ok nel senso che comunque sia è quello attento alle novità è quello attento alle particolarità eccetera 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 quindi cosa apprezzo dell'appassionato da social è che apprezzo un sacco che si sbatte tantissimo a creare un sacco di mobiletti per farci stare tutti i prodotti che compri veramente tanta roba che dopo però ti dico una cosa che non so se sai però ad esempio io da appassionato da social ho portato 7, 8, 10 persone per dire solo io che conosco che in realtà non sono social sono nel gruppo ma non hanno mai postato nulla però si radono in maniera tradizionale e acquistano magari mi chiedono a me ma devo comprare quel rasoio lì e lui non sa neanche se ci abbiamo sconti non sa niente di social perché non gli interessa certo avendolo conosciuto non tramite social non si sono infidati dentro quella situazione lì e quindi ci sono queste 8-10 persone che adesso si radono in maniera tradizionale che magari hanno anche un paio di rasoietti da 100-150 euro ci hanno i 2-3-4 pennendi che magari mi chiedono a me che consiglio e sono riguarda la differenza numerica è molto e ti do questa differenza numerica allora se tu prendi gruppi da rasatura prendiamo sempre il più grande senza fare i nomi tutti sanno qual è si ha 10.000-12.000 iscritti che poi di rifa di raffa sono quelli sparsi si però bisogna vedere anche l'attività del gruppo anche si no io parlo di numero perché non faccio differenze tra gruppo buono gruppo numero non mi interessa io parlo solo di numero ok diciamo che sono un metodologista si e io qui mi occupo di numeri guardo il numero quindi di rifa di raffa sono quelli quindi se non sono 10 facciamo che siano 15.000 appassionati da soli dalla Zoe Goodfella sa 100.000 utenti ok se dovesse campare con i 15.000 si la vedo difficile quindi l'obiettivo è sempre quello infatti tutto quello che noi facciamo commercialmente che tante volte magari può essere visto male visto come una cosa strana eccetera eccetera in realtà è proprio per andare a prendere la gente normale ok quindi la forza dell'azienda che deve stare sul mercato è rivolta al pubblico perfetto ampio e dopo magari mi falta la serietta limitata l'idea anche per l'appassionato che comunque fa parte del bacino spinge fa, parla esatto assolutamente è importante uno ed è molto importante l'altro però sono tutti e due importanti come vedete il futuro aspetta poi c'è la cosa mi piace di meno non c'è scritto lì ah sì la cosa mi piace di meno dell'appassionato da social ok è che purtroppo tante volte non ascolta chi è nel settore quindi magari se vengono fatte delle domande vengono fatte delle cose dove chi è nel settore attenzione io parlo per noi non mi interessa degli altri noi cerchiamo sempre di fornire una spiegazione professionale alla domanda al problema alla questione eccetera eccetera però riscontriamo molto spesso lo riscontriamo sul nostro gruppo su altri gruppi non mi interessa quello che vedete voi direttamente è libero di dire quello che c'ha voglia proprio non me ne può fregare di meno ma da nessuna parte perché veramente non è importante però ecco vedo che la risposta professionale fatta da un professionista non viene così considerata come passatemi il termine la boutade fatta dall'appassionato su una cosa magari che sta sparando una stronzata proprio detto papale papale questa è una cosa che da professionista perché mi sento un professionista del settore mi rammarica un po' ecco tutto qua poi capisco che mai ci sono dei professionisti che cercano sempre di dare risposte che vanno dietro a una tendenza però non è per chi mi conosce sa che non è così se io devo dirti che questa scarpa è più bella di quella che faccio io te lo dico non è che mi interessa però ecco secondo me la parte professionistica su social e vista non capisco perché non si dà molta importanza però può essere anche che sia una questione che essendo che siete entrati da poco ci vuole anche del tempo per prendere fiducia forse nel senso che adesso c'è un rapporto tra gli appassionati e anche i venditori un pochettino forse più vicino di prima forse magari nel tempo può essere che cambi può essere però sai noi vendiamo talmente tanti brand che difficilmente non siamo in grado di dirti esattamente si dopo non si può dire tutto sempre fino in fondo quindi c'è sempre un equilibrio che non sempre si può andare oltre però ecco questa parte qua è quella che mi piace bene sì ma ci sta come noi certe cose si vede da fuori e magari le giudichiamo nel nostro modo da appassionati ci sta tutto quanto alla fine i nostri punti di vista non sempre possono combaciare ecco però logicamente voi a volte dice io parlo in modo professionale e dico una cosa per quella che ma la vediamo in modo diverso e dopo la verità sta è un equilibrio un equilibrio come vedete il futuro della vostra azienda dove volete arrivare? o vi sentite già abbastanza e fate un passetto e la volta e mano a mano vedete? no allora arrivati non si è mai arrivati ok? quello è fuori discussione chi fa impresa deve sempre avere delle idee da qui a quanto meno 4 o 5 anni perché sennò diventa complicato vivere sull'oggi no abbiamo abbiamo in mente i nostri i nostri step di ok di come si dice di sviluppo di sviluppo esatto allora per quanto riguarda Barbieri Uniti quello è un'azienda che ormai è passata in termini talmente grande ok dove siamo passati dal cerchiamo i brand oggi invece rifiutiamo i brand cioè nel senso selezionate tutti i giorni noi riceviamo perché non mi distribuisci perché non mi distribuisci perché non mi distribuisci no sì in base c'è una logica anche in quello cioè non si può fare tutto ok perché c'è dietro un lavoro c'è un investimento e quant'altro per quanto riguarda rasoi Goodfellas abbiamo in mente di di creare tanti rasoi Goodfellas nonostante serviamo comunque da qua tutto il mondo però nella nostra mente c'è sempre che l'utente deve sempre risparmiare soprattutto sul trasporto ok anche a me generale balle quando pagano il posto questo è uno dei punti vostri di più forza secondo te sì perché non lo fa nessuno esatto nessuno si permette di dare una spedizione gratuita siccome oggi spedire da qua verso la Germania verso la Polonia comunque si ha la spedizione anche i clienti la nostra idea di sviluppo della parte B2C è quella di andare nel tempo a creare una sorta di passato milterno una sorta di rete fisica sui vari territori affinché tutti possono avere le spese di spedizione come oggi sono quelle in Italia è una bella cosa questa sì e per il brand Goodfellas Mile che comunque sia è un brand nonostante cosa può dire appassionato dalle social è un brand conosciuto ormai in tutto il pianeta che piace all'utente che spende quella cifra ok guardavamo giusto a chiusura dell'anno comunque oggi il brand Goodfellas Mile è venduto in 36 nazioni in tre continenti quindi stiamo sviluppando una rete di sub distribuzione del brand stiamo sviluppando una rete di sub distribuzione del brand con delle esclusive soprattutto per quanto riguarda nazioni molto lontane quindi il Taiwan ad esempio che dice che cazzo del Taiwan probabilmente se qualcuno diventasse in Taiwan dovrebbe vedere The Goodfellas Mile dappertutto perché vendono tantissima roba mamma mia per termosur poi lo stiamo facendo sugli Stati Uniti lo stiamo facendo nei paesi dell'est e comunque niente questa rete della crescita del brand sia per quanto riguarda The Goodfellas Mile che per quanto riguarda officine artigiana che per quanto riguarda l'altro brand che si chiama Mad Dog che invece è per la cura del capello che quindi non sono in cura nessuno però in effetti ha un descritto successo quindi queste sono le idee pian pianino di sviluppo perfetto adesso l'ultima domandina social social è un po' pepatina perché ci vuole anche una domandina social una domanda peculiare però peculiare nel senso che io farò a te e tu se vuoi la farai se no ti risponderò lo stesso io quindi alla fine cambia poco ok domanda retorica alla fine finirà per essere retorica allora cosa pensavi di me prima del nostro incontro diciamo o se avevi un'idea di me come persona cosa pensi adesso allora bella questa domanda eh tu non la ricorda eh speravo io che non te la ricordassi sincero quello che è sincero allora parliamo della persona la persona non si può giudicare fino a quando non la conosci questo è l'immagine che davo ecco perché alla fine dopo si vede l'immagine fuori dai ecco l'immagine solta quindi non si può non si può giudicare la persona quindi a un momento in cui l'ho conosciuta è una persona come si dice pane pane vino vino ok un po' come siamo noi sostanzialmente quindi mi piace il tipo di persona a me piace il tipo di persona a me piace le persone senza tante storie capito se no è una rotura di pari a livello social sincero sì senza sminuire no a me fa piacere in realtà non avevo nessun tipo di idea e ti spiego perché perché un concetto fondamentale ok quando qualcuno compra qualcosa di qualsiasi natura di qualsiasi genere per quanto mi guarda può dire quello che c'ha voglia ok non è mai interessato se a uno piace non piace è giusto che dica quello che vuole ovviamente quando una persona inizia ad avere un po' di seguito dovrebbe avere anche delle competenze ok che molto spesso si formano nel tempo ok quindi magari parti con un'idea poi la cambi attenzione a cambiare idea non è sbagliato solo gli scopi di non cambiare attenzione sono il primo io che mi rendo conto che avevo avuto un'evoluzione su tante cose ma anche in base alle conoscenze che dopo hai nel tempo giustissimo quindi in realtà non avevo né un'idea positiva né un'idea negativa è semplicemente uno che manifesta le sue cose cioè se io dovrei anche perché condividi la propria passione esatto in tutta sincerità se dovessi ascoltare se noi dovessimo ascoltare tutto quello che negli anni viene detto è stato detto si dirà probabilmente dovremmo chiudere dodici anni fa ok? siccome questa è un'altra nostra forza nel senso che non ci interessa non è che non ci interessa ci interessa sempre date il peso però diamo che diamo giusto peso a tutte le situazioni quindi questo ti piace si fa piacere 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 pensavo peggio dai no questo lo penso di tutti attenzione dopo certo a volte si esagera ma qui fa parte fa parte proprio della passione cioè vedo anche io mi piace la fotografia c'è gente che analizza gli obiettivi ci sta fa parte della passione però ecco non avevo né un'idea positiva né un'idea negativa prima come non ce l'ho positiva e non ce l'ho negativa neanche adesso nel senso che comunque uno deve fare il suo percorso è lui che sa il percorso che deve fare ecco allora adesso però dimmi al di là del pane pane e vino e vino e anche per fare contenti i nostri amici del gruppo passione rasatura cosa pensi un po' di passione rasatura come gruppo un po' come ambiente da quello che vedi così come anche interagiscono un'idea tua così sincera allora guarda io così alla premesso alla chichichella premesso che non sono uno che vive sui social sì certo vedete il nostro gruppo sì sì fate fatica anche un po' cioè non è che stiamo lì anche perché voi dovete capire che quando ci lavori dalla mattina alla sera magari anche alle 10 perché potete scrivere in america cioè i social si lo guardi però a meno che uno scriva veramente una minchiata cioè capito va avanti per la sua strada non è che c'è tante filosofie certo certo quindi anche gli altri gruppi penso di essere quasi in tutti i gruppi di tutta Italia molto raramente che io intervenga su qualcosa su passione e rasatura quello che vedo io è che è un gruppo molto vissuto però comunque penso che sia uno dei gruppi in cui io sono dove si scrive più di tutti gli altri gruppi e questo fa parte di una gestione fatta bene sostanzialmente ogni tanto leggo delle stronzate è un po' più rassato e me lo dico sono stati piacagati però ci rido cioè non mi interessa ed è giusto come un gruppo di gente che ha una passione secondo me è giusto che chiunque deve sentirsi libero di esprimere la propria passione dopo io penso una cosa che tante volte anche quando a volte si sparano le si sparano grosse però quando le spari grosse a volte c'è anche di altri intorno che ti dicono guarda che cioè nel senso se taci a volte vai avanti con l'ignoranza se uno la spara ma una volta che l'hai sparata dopo vedi se ti piovi in faccia cioè tutte cose comunque fanno anche crescere e nella condivisione alla fine si arriva un pochettino anche tante volte alla chiarezza delle cose comunque anche a crescere io mi trovo una sfonda non mi piace solo quando uno usa termini in generale una minchiata una cagata queste cose qua ci sono tanti modi per dirlo in qualche parte della mia persona comunque sia dietro ogni brand che piaccia che non piaccia c'è comunque un lavoro fatto da dei professionisti quindi poi capisco che c'è una cosa che piace normale però ecco il gruppo mi sinceramente piace lo vedo molto attivo e secondo me questa è una cosa molto positiva quindi vi faccio i complimenti sia a lui sia a quello che sta tenendo in mano il telefono che ha il braccio in cancrena è stato determinante nel gruppo bisogna dire la verità in sintesi è così ecco e adesso ci tenevo a dire cosa penso pensavo io di voi devo prendere il vino no 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 cosa pensavo io di voi cosa penso adesso perché come abbiamo detto prima una persona è giusto anche che se nel tempo cambi idea lo dicano abbia paura non deve rimanere nelle proprie posizioni per forza perché una volta detto così adesso si rimane così allora all'inizio ma non solo per me ma anche per tanti utenti perché dopo logicamente molti mi scrivono e quindi io vedo l'idea di sempre di un numero risicato di persone perché non è il mondo però vedo l'aspetto degli appassionati ok? quindi tantissimi compreso me un po' vi identificavano con chi un po' diciamo vi rappresentava un po' come gruppo o come altro un po' vi rappresentava quindi vi dovete visti in un modo che probabilmente dopo io quando l'ho troppo conosciuto ho visto un'altra realtà ok come barbino di chiese Goodfell ecco esatto è stato un po' un po' alcuni venivano visti in questo modo qua quando sono venuto qua che comunque già il fatto quando avete aperto il gruppo ho già visto da lì una cosa diversa e quando vi siete esposti direttamente voi alle persone agli appassionati già lì c'è stato un cambio enorme di visione è la verità ho valutato diversamente anche il vostro le vostre persone tutte quando sono venuto qua l'ho conosciuto devo dire la verità che la cosa è cambiata tra l'altro anche i miei paesanni perché mio nonno è di Bergamo sono oltrati da Bergamo quindi non poteva andare altrimenti comunque al di là di tutto è stato un piacere il fatto di conoscere due persone che comunque si da un lato sono commercianti e con l'appassionato non si arriverà mai così però si vede anche comunque fanno le cose con la loro passione ci mettono impegno lavoro dedizione quindi questo va premiato anche perché dopo ne va anche per noi appassionati se i lavori vengono fatti bene che dopo esce un rasoio come il sintesi esce un set come maremoto che comunque hanno portato veramente una bella aria tra noi appassionati ok che se prima altri prodotti magari noi da appassionati li vedevamo un pochettino più come una cosa commerciale adesso stiamo vedendo anche un lato che si avvicina un po' a noi appassionati ma che comunque magari dopo ci avrà anche il suo seguito commercialmente e si spera per qualsiasi che sia così quindi basta penso che finiamo qua e non ci siamo presi a pugni a schiaffi quindi dirai che niente male come intervista perché poteva andare anche a finire veramente a schifio invece è andata bene domanda alle tre quinte vedremo mai Marco in vestaglia come Jared anche no 40 euro beh magari magari nella prossima intervista vedremo come succederà lo so bene dai ragazzi vi saluto spero che comunque ecco fatta anche in modo così tranquilla ma comunque fatta con compassione con cuore vi sia piaciuta l'intervista avete visto dai una persona comunque fa il suo si comporta bene ci vuole bene porta pazienza ogni tanto ci tira l'orecchietta e fa bene ogni tanto la tiriamo noi e va bene anche quello e ci vediamo al prossimo video bye bye ciao a tutti ma vi rendete come? è secco? ma vi rendete come? è secco? è di pennello?